Un documento contabile nel segno della tempestività e della prudenza. È stato presentato così dal sindaco Serie e dall'assessore Cucchiarini il bilancio di previsione 2022 da oltre 155 milioni di euro. Nella sala della Concordia del comune di Fano sono stati illustrate le strategie e gli interventi che verranno realizzati nei prossimi anni. Al centro dell'attenzione i servizi sociali per i quali sono previsti 11,6 milioni, i servizi finanziari per circa 9 milioni e i lavori pubblici per 6 milioni e 800 mila euro. Tanti progetti che rientrano in quest'ultimo settore come gli asfalti e il rifacimento della segnaletica, la difesa della costa, la riqualificazione delle piazze Marcolini e Andracosta, i parcheggi del Boario, dello Sportpark e del Pronto Soccorso ma anche le ciclovie per oltre 6 milioni di euro, il centro civico di Gimarra e gli impianti sportivi come quello di Sant'Orso e la pista Zengarini. In agenda anche il cimitero di Rosciano con un nuovo padiglione, la scuola materna di Carrara Cucurano, il restyling di Viale Battisti, il waterfront con la riqualificazione del lungomare che verrà presentata alla città il 16 dicembre, la manutenzione del teatro e la realizzazione della nuova ala della Federiciana, il restauro delle chiese San Francesco e San Pietro in valle, nonché il prolungamento dell'interquartiere in vista del nuovo ospedale. In campo per il tratto verso Gimarra, 20 milioni di euro stanziati dalla regione, il comune auspica di poter restare dentro tal importo senza dover attingere a risorse proprie. Per cultura e turismo, infine, il taglio verrà compensato nei prossimi mesi. Stessa cosa per i fondi necessari alla progettazione del nuovo Palasport. Un lavoro difficile per preparare questo bilancio di previsione, però alla fine abbiamo fatto un bilancio aggressivo che vuole portare risultati per la città. Però ci tengo a sottolineare che noi lo facciamo con strumenti inferiori rispetto a tanti altri, perché noi abbiamo storicamente minori trasferimenti pro capite rispetto ad altre città e questo significa avere 3-4 milioni in meno. Nel bilancio ordinario per una città come Fano sono tantissimi. Daremo un messaggio forte per la crescita e lo sviluppo di questa città. State predisponendo anche una struttura per le grandi opere? Sì, c'è l'altra sfida, quella del PNNR. Non si può aspettare che le cose ci vengano incontro, ma bisogna dargli incontro e su questo ci stiamo strutturando sia con l'assunzione di nuove personale, ma soprattutto ho istituito un gruppo di lavoro per le grandi progetti con la guida del sindaco, dirigenti e assessori, proprio per lavorare e anticipare anche quelle che saranno le uscite previste dal governo. L'assunzione saranno 30 in totale per le prime 20 nuove figure tecniche. Il mando è uscito nei giorni scorsi e il bilancio verrà discusso il 23 dicembre in Consiglio Comunale. Farlo in tempi brevi, ha rimarcato l'assessore Cucchiarini, significa che l'ente è in salute, che ha capacità programmatoria e che già dal 1 gennaio potrà cogliere le opportunità che arriveranno dai vari finanziamenti. Ricordiamo che per i servizi educativi abbiamo messo una copertura completa, sia da subito in questo bilancio, di quasi 600 mila euro per le maggiori spese Covid per le scuole, quindi questo permetterà già dal 1 gennaio di mettere in sicurezza comunque tutte le maggiori spese, riflessione scolastica, organizzazione comunque delle attività nelle bolle, tutto quello che serve con maggiori spese appunto per il settore. Leggermente espansivo anche il bilancio dei servizi sociali, che è un bilancio importante nel nostro comune storicamente, sempre leggermente in crescita. Tutto questo avviene mantenendo la pressione tributaria invariata, quindi tasse rimangono bloccate, servizi e domanda individuale rimangono invariati, anzi ci sono stati diversi aiuti anche con diverse manovre durante l'anno per calmierare comunque anche le rette scolastiche per esempio e non abbiamo applicato il tasso di inflazione programmata che avremmo potuto applicare, quindi questo è un gesto importante che il comune di Fano ha deciso di fare ed è una risposta comunque concreta per la cittadinanza.